Un ritorno di Zeman al Pescara? Si va verso il no, almeno per l'immediato. Il discorso, semmai, potrebbe essere riaperto in vista della prossima stagione, quasi certamente in Serie B. È stata un'altra giornata convulsa in Casa del Delfino, nella quale il momento clou è stato il viaggio romano del presidente Sebastiani e i due DS Leone e Pavone, i quali hanno incontrato a pranzo Zeman il principale obiettivo per il dopo Massimo Oddo. Alla fine della chiacchierata i colleghi di Sky hanno intercettato il boemo, riaccompagnato a casa proprio da Sebastiani. Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata, ha dichiarato Zeman. Siamo andati a mangiare e si mangia bene. I rapporti con Sebastiani sono come sempre. Se c'è la possibilità di tornare ad allenare il Pescara, tutto può succedere. Non mi sbilancio perché ora non c'è da sbilanciarsi. Non si è scomposto, Zeman. La proposta messa sul piatto da Sebastiani era un contratto da un anno e mezzo. 100.000 euro da oggi a giugno e 400.000 euro per la prossima stagione, compreso il premio promozione. Subito dopo Sebastiani, Leone e Pavone sono ripartiti la volta di Pescara e si sono recati al Poggio degli Olivi per incontrare la squadra e l'uomo cui è stata al momento affidata, Luciano Zauri. Mentre sembrava profilarsi una giornata di riflessione per Zeman, è stato lo stesso Sebastiani nel tardo pomeriggio a chiarire. Per ora escluderei il ritorno di Zeman. È da considerarsi in ottica futura. Tra noi i rapporti sono buoni, ma questa squadra non è adatta a lui e al suo sistema di gioco. I direttori Leone e Pavone, prosegue Sebastiani, ascolteranno altri allenatori, ma sempre in prospettiva futura e non è da escludere che la stagione sia portata a termine dall'attuale collaboratore tecnico, Luciano Zauri. Dunque, frenata sul fronte Zeman per l'immediato, oltre alla soluzione interna Zauri, potrebbero essere vagliati altri profili. Uno è quello di Andrea Mandorlini, che guarda caso da poche ore ha risolto il contratto che lo legava all'Ellas Verona. Anche se i trascorsi scaligeri non lo aiutano, visto l'astio tra Verona e Pescara, ha cresciuto proprio nel periodo con Mandorlini sulla panchina gialloblu. Allora, tra i profili più quotati per traghettare la squadra a giugno, c'è quello di Fabio Liverani, ex Palermo e Leighton Orient. Intanto è certo che Zauri guiderà la squadra domenica contro il Genoa, mentre le riflessioni in Casa Pescara sono destinate a proseguire.